Benvenuti alla seconda puntata di ORL Journal. Come anticipatovi nella prima puntata, oggi parleremo dell'otonicosi. Vi renderete conto che per alcune caratteristiche questa patologia assomiglia all'otite esterna acuta, ma allo stesso tempo avrà invece degli aspetti che saranno tipici di questa patologia. E quindi cominciamo a evidenziare alcune note, ecco, quelle in comune con l'otite esterna acuta. È data da degli agenti infettivi, in questo caso da miceti. Anche loro, come già detto per l'otite esterna, sono saprofiti, cioè vivono sulla nostra pelle. E per l'80% delle otomicosi essi sono o l'aspergillus niger fumicatus o la candida. Come dice il nome stesso, l'aspergillus niger da poi un aspetto nerastro della cute che infetta, la candida che poi è quella più frequente darà un aspetto biancastro. Di solito l'otomicosi è tipica nei periodi in cui il tasso di umidità è molto elevato, come potete leggere. Quindi anche in questo caso il periodo più propizio, nel quale più frequentemente possiamo avere un'otite micotica o un'otomicosi, è il periodo caldo, primaverile, estivo, estivo, autunnale. Vedete ancora una volta l'alterazione del biofilm ceruminoso lipidico. Quindi quando viene alterata quella pavimentazione, la cute del condotto per l'eczema, quindi per una macerazione della pelle, o per il grattamento, per l'introduzione di corpi strani, per il tuffo in piscina, in questo caso passano al di sotto della cute non i batteri ma questi miceti. Guardate la sintomatologia. Prurito, dolore, soprattutto però quando c'è una sovrapposta otite esterna. Quindi noi possiamo avere un'otite micotica e dopo una sovrapposizione di otite esterna. Ma soprattutto è tipico di questa patologia il fatto che il dolore è un poco più sfumato. Prevale il prurito e prevale una secrezione. Di solito è una secrezione che può essere biancastra, lattescente, un prurito abbastanza intenso, un senso di ovattamento auricolare. Guardate questo caso clinico tipico. È di una bambina di cinque anni. È patognomonico perché vi fa capire come l'indagine endoscopica sia utile. Bambina di cinque anni, un'otorrea, cioè una furoscita di secrezione cominciata in settembre, fatta alle piante antibiotiche, gli infiammatori non funzionano. Vedete l'otendoscopia a sinistra, la classica otomicosi da candida. Vedete queste chiazze biancastre che tappezzano la pelle del condotto fino alla membrana. Quindi anche l'otomicosi è un'infezione della pelle del condotto, quindi che non coinvolge la cassa del timbano. Un altro orecchio vedete come sia normale. Dopo 15 giorni di antimicotico topico ed acido borico, già va meglio vedete la pelle più pulita, queste chiazze cominciano a ridursi. E il controllo dopo ulteriori 10 giorni, vedete la pelle è tornata normale, il condotto è tornato normale, quindi si comincia da riformare la pelle. Due considerazioni sono d'obbligo. La prima è che l'otomicosi è un'infezione della pelle causata da un fungo, questa è la differenza dall'otite esterna batterica, e che dà meno dolore ma prurito, più sensazioni di ovattamento auricolare e un dolorino di ridotta intensità. Anche in questo caso, l'antimicotico va dato per uso locale e non per via generale. Come per l'otite esterna batterica, l'antibiotico per via generale non è assolutamente indicato. La seconda considerazione è che la terapia dell'otomicosi è una terapia lunga, che dura almeno 3-4 settimane. Questo per due ordini di motivi. Il primo è perché il fungo nasce dalla spora. La spora è un guscio resistentissimo agli agenti esterni e quindi bisogna attendere il suo ciclo per fare in modo di colpire il fungo l'antimicotico e poi di lavare tutto via con l'acqua borica. Il secondo è perché aspettando i 28 giorni, mentre questi funghi vengono costantemente attaccati e allontanati dal condotto, ci permette di attendere la fine del ciclo della pelle e quindi di riformarsi nel nuovo pavimento che difenda il condotto da nuove infezioni. Informiamo infine il paziente che l'otomicosi è una patologia che può recidivare e quindi, se dovesse riavvertire i stessi sintomi, di recarsi nuovo dall'otomino alla lingua di altri. Bene, io vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione. Ho visto con piacere che la prima puntata ha avuto diverse visualizzazioni, numerose visualizzazioni e di questo ne sono chiaramente contento e soddisfatto. Vi invito a visitare il mio sito domenicodimaria.it o a visitare il mio canale YouTube. Attendo vostri commenti, vostri consigli per migliorare sempre di più questa serie e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti.